Un pari tutto sommato prezioso in quanto tenuto sul campo di una diretta concorrente ma anche e soprattutto una vagonata di rimpianti. Manfredonia avanti di due reti ad Angri dopo una ventina di minuti grazie ai centri di Carbonaro e Calemme. Manfredonia però raggiunto dai campani a segno con Palmieri in chiusura di prima frazione e Fabian prima dell'ora di gioco risultato dai due volti insomma per i Sipontini. E' uscito questo 2-2 che onestamente è un buon punto contro una squadra che per quanto mi riguarda la reputo una squadra forte, molto qualitativa e che probabilmente non si aspettava di essere magari invischiata nella zona play-out. Per cui ce lo portiamo a casa, affermo restando che quando stai vincendo 2-0 è chiaro che ci credi in uno scontro diretto, credi di portare a casa l'intera posta e sarebbe stata effettivamente una vittoria stra-importante. Sapevamo che era una partita difficile contro una diretta concorrente, l'Angri comunque è una grande squadra, è stata una partita combattuta e purtroppo non siamo riusciti a mantenere il vantaggio di due reti, però ci sta, ci teniamo questo punto e andiamo avanti. Manfredonia dunque che balza quota 25 punti in classifica, Manfredonia che conserva due lunghezze di vantaggio sull'Angri e sale a più 3 sulla zona play-out. Manfredonia che si conferma imbattibile quando si esibisce con la valigia da viaggio una sola sconfitta all'esordio in questo campionato contro il Martina Altursi, poi due vittorie, Gallipoli e Casarano e sette pareggi nelle successive nuove trasferte. Manfredonia che si gode anche i gol dei suoi due attaccanti, entrambi arrivati a stagione già iniziata, la sbloccata Paolo Carbonaro. Paolo è un esempio per tutti credo, perché lo spirito, per quanto riguarda il sacrificio, l'abnegazione, lo spirito di squadra, il non egoismo, spesso gli attaccanti sono egoisti perché chiaramente vivono per il gol, invece lui incarna proprio lo spirito di squadra, non importa chi segna. Per quanto riguarda l'allenatore, avere un giocatore che ti fa bene la fase difensiva e che attacca lo spazio, sicuramente è una fortuna. Ha raddoppiato invece Luigi Calemmi al terzo centro in questo campionato con il Donia, più 6 assist. Io lavoro ogni settimana, il gol viene da sé, allora l'importante è fare i punti e raggiungere presto l'obiettivo. Ora l'obiettivo del Manfredoni è tornare a far punti anche in casa dopo le sconfitte contro Fidelis e Fasano domenica a partire dagli ore 14.30 al Miramare e arriva la Paganese.